Prima stante, le squadre tifo io non tifo Un VIP uomo con cui ti fidanzeresti Ma, ci devo pensare un momento Anche straniero? Ce l'ho Adesso ve lo faccio vedere Troppo bello Questo è il mio tipo di uomo ideale Aspettate, non mi ricordo come si chiama Mi ricordo la moglie Ha fatto un film Anzi, ha fatto una serie tv Mi sembra Mi sembra che ha fatto The Vampire Diaries Però non è uno dei protagonisti Però è madre Che cos'è? Adesso ve lo faccio vedere Come si chiama? Non va neanche la linea qua Benzema No No, non mi piace a me quello No, non mi piace Caspito è uguale a me gemella No, ma non avete capito chi dico io Andate a cercare Andate a cercare Che a me non funziona qui Cercando sull'altro telefono Andate a cercare Ah, ecco questo Cercando al computer Il marito Il marito di Sofia Vergara Aspetta Sofia Vergara Marito Come si chiamava? Joe Joe Manganiello si chiama Madre Che cos'è? Aspetta Aspetta Devo vedere se trova una foto Mamma mia Eccolo Gio Manganiello Esatto, sì Vediamo Dai ora sono curiosa Ma ve lo faccio vedere Ma vi rifate un po' gli occhi Madre Che cos'è? Aspetta Manganiello è napoletano No, però se non mi sbaglio Ha qualche origine italiana Aspettate Ma ve lo faccio vedere bene Faccio vedere qualche foto Che ho visto io nel film Però Che mi sono innamorata La Madre Che cos'è? Aspetta C'è Guardatelo Non so se mi spiego E vogliamo parlare? Andatelo a vedere No, comunque È top Quello di Magic Mike Non lo so se ha fatto anche Magic Mike Se l'ha fatto me lo andrò a vedere Comunque Questo È il mio È il mio uomo ideale Come lui Uguale Avrà 40 anni No, ma ne ha di più Ne ha di più sicuramente Vabbè Vabbè ma non mi interessa l'età Io dico solo quello Cioè Quando l'ho visto Io Nel film Era molto più giovane Cioè Parliamo tipo di 10 anni fa È sposato però Eh vabbè Infatti mica voglio lui Ti assicuro che sono più bello Di questo signore Eh vabbè Dai Io Io ho uno più bello Di questo qua Ancora lo devo vedere Candidati Guarda le mie foto Sono uguali Allora vediamo quanti anni c'ha 28 dicembre 1976 76 2022 C'ha 45 anni 45 anni Però Cacchio Cioè 45 anni così Tutta la vita Te lo faccio vedere io uno bello Vai fammi vedere Lo cerco sul computer Un bell'uomo è quello che ha fatto 300 Il biondo A me i biondi non mi piacciono Vediamo Allora 300 Atture Invece di studiare no Cerco sul computer Gli attori No Non mi piace proprio Questo qua Gerald Butler No Non mi piace Per carità Mi piacciono scuri Gli occhi scuri Alti Come quello Uguale Quello è lì No Spartacus Non ne parliamo proprio Non mi piace Il basso Se non mi sbaglio Io ne ho di più Dieci anni fa Ero lo stesso Stefano De Martino No Per carità Dove lo mettete? Ma l'avete visto questo Che Che mi piace? David Beckham Neanche Non mi piace Biondi no Tutti i mori Mori Alti Poi lui Questo Allora Vediamo Hanno scritto Per la Pesci Ebbè Le 12 Critto Per la Pesci Ebbè Le 12 Critto Per la Pesci Ebbè Le 12 Pesci